Aggiornamento domenicale di calciomercato inter facciamo il consueto punto della situazione della domenica sui dieci nomi più caldi con il nostro tier maker ormai è diventato un appuntamento quasi fisso quasi ogni domenica facciamo un punto della situazione sugli ultimi sviluppi sui nomi più caldi del mercato interista e questi nomi sono tanti perché nonostante l'inter abbia già piazzato cinque acquisti in entrata e abbia già visto partire e salutare diversi giocatori anche in uscita non è ancora del tutto finito il mercato interista ci sono ancora dei nomi di cui parlare alcuni più pesanti altri un pochino meno e in questo episodio siamo qui ovviamente per fare il punto ben ritrovati amici amici di passione inter lanciamoci direttamente nel contenuto prima come sempre un mi piace e un'iscrizione al canale così ci confermate se questo format vi piace e se vi piacciono questi riassunti di mercato domenicali detto questo quindi vado diretto perché abbiamo tantissime cose di cui parlare e vi condivido lo schermo con il consueto tier maker di mercato i soliti dieci nomi che andremo a piazzare nelle varie fasce rovente caldo tiepido e freddo e partiamo da uno dei nomi più pesanti del mercato attuale appunto che è quello di milan screener e purtroppo milan screener ragazzi lo devo posizionare nella colonna rovente probabilmente è già la seconda o forse addirittura terza volta che posizioniamo screener nella colonna rovente però in realtà la trattativa è effettivamente viva da un po' e si parla spesso di settimana decisiva giorni decisivi anche questa volta quello che filtra soprattutto dopo un'ultima offerta arrivata proprio in queste ore dal Paris Saint Germain di 65 milioni di euro quindi ulteriormente rialzata anche questa volta sembra davvero vicina la chiusura della trattativa anche perché l'inter sta tenendo il punto e questa è una cosa molto interessante anche per un discorso più generale sulla situazione economica del club e non solo l'inter tiene il punto non vuole abbassare di troppo la sua pretesa che inizialmente era di circa 80 milioni così si diceva adesso sembra intorno ai 70 o comunque ai 65 più bonus ecco comunque non si vuole andare troppo sotto il PSG però continua e insiste vuole Milan screener per la difesa a tre del nuovo allenatore Galtier annunciato in questi giorni a quanto pare la trattativa è davvero vicina a screener è stato offerto un quinquennale da 7,7 milioni netti a stagione quindi un ingaggio veramente mostruoso e l'inter ha anche bisogno di sbloccare questa trattativa per andare a piazzare gli ultimi tasselli del mosaico della squadra che vuole mettere insieme per la prossima stagione quindi mi risulta difficile pensare che l'affare salti anche se fra poco parliamo anche di questo e quindi metto screener su rovente peraltro screener proprio in queste ore è tornato da piano gentile e quindi almeno per qualche giorno poi vediamo si allenerà con i suoi compagni all'inter il prossimo nome è quello di Stefan De Vrij e l'ho messo apposta per ampliare un attimino quel discorso relativo al fatto che magari screener possa rimanere per ora De Vrij lo metto su tiepido perché ancora qualcuno in particolare se non era questa mattina tutto sport ne parlava non esclude che l'inter all'ultimo possa decidere di non cedere screener rinnovargli il contratto e incamerare quei soldi di cui hai bisogno da altre cessioni come appunto quella di De Vrij qualcuno parla ancora di Dumfries poi ci sono i vari pinamonti eccetera eccetera lo metto su tiepido perché forse freddo sarebbe un po' troppo sinceramente faccio fatica a pensare che però vada a finire così la sensazione che arriva è che è vero che l'inter ha circa un anno di tempo per fare questa cessione però più ti avvicini alla deadline più chi compra il giocatore che stai trattando sa che tu hai bisogno diciamo urgentemente di questi soldi quindi temo che l'inter e lo dico con la morte nel cuore perché sapete quanto io sia legato a screener temo che l'inter decida appunto di fare questa cessione in questi giorni e che la cessione sia quella di screener quindi De Vrij lo metto su tiepido temo che però sia quasi un freddo di fatto quindi lasciamo una flebile speranza però la vedo molto difficile vedo anche lui molto rovente il nome di Gleison Bremer perché Gleison Bremer è di fatto il primo obiettivo in entrata dell'inter dopo i cinque colpi già piazzati in queste settimane anche qui incontro con il Torino avvenuto in queste ore nuovo incontro in programma la prossima settimana verosimilmente arriverà con arriverà a seguito della svolta decisiva per la trattativa con screener quindi a quel punto si andrà anche verso una chiusura per Gleison Bremer si continua di insistere nel dire che Bremer non è strettamente legato a screener e questo effettivamente è confermato è evidente però che appena screener se dovesse accadere ma come dicevo prima sono purtroppo abbastanza rassegnato appena si dovesse sbloccare la situazione screener si accelererà subito per Bremer perché peraltro sta aspettando l'intra da tempo e quindi anche da questo punto di vista è importante accelerare per evitare di tirarla troppo per le lunghe l'allineamento da parte della dirigenza e dell'allenatore su Bremer è totale questo difensore è fortissimo e non bisogna lasciarselo scappare questo è quello che filtra direttamente da piano diversa la situazione di Nikola Milenkovic e qui formiamo la seconda coppia in questo caso con De Vrij lo posiziono su tiepido Milenkovic è fra i due difensori Bremer e Milenkovic stesso quello che è maggiormente legato alla situazione screener in questo caso ovviamente dal punto di vista tecnico non economico lo metto su tiepido per due motivi il primo è che lui sì eventualmente si sblocca solo quando screener viene ceduto e il secondo motivo è che non è l'unico nome che viene valutato ce ne sono anche altri uno è anche il prossimo di cui parleremo lo metto su tiepido qualora partisse screener molto probabilmente scatterebbe già su caldo per non parlare addirittura di Rovente visto che di fatto è il preferito dell'Inter per completare il pacchetto si parla di circa 15 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina non dimentichiamo che Bremer e scusatemi che Milenkovic va in scadenza nel giugno del 2023 quindi la Fiorentina non può tirare tantissimo sul prezzo non dimentichiamo però altresì che su Milenkovic c'è anche la Juventus che come sapete sta trattando l'addio di Matisse De Ligt quindi attenzione perché se dovesse partire più velocemente rispetto a screener De Ligt la Juve potrebbe anche accelerare e poi li dipenderà tutto da Milenkovic che per il momento sembra preferire l'Inter però non si sa mai quindi tiepido ma in fase di riscaldamento diciamo usiamo questa espressione molto più freddo invece Dan Axel Zagadu che vado a mettere appunto su freddo perché se ne è parlato in questi giorni faccio un brevissimo punto è un profilo che è stato offerto all'Inter quindi l'Inter non è andata a cercarlo offerto dai suoi agenti che si sono palesati in sede se non erro venerdì e l'hanno offerto appunto alla dirigenza ha sicuramente dei lati positivi questo profilo in particolare il fatto che è svincolato e quindi sarebbe un colpo low cost e il fatto che è un classe 1999 quindi ancora molto giovane il fatto che ci siano questi due elementi è però controbilanciato da un motivo importante ed è il motivo in negativo ovvero la fragilità fisica questo ragazzo ragazzi purtroppo ha una storia a livello di infortuni degna del miglior sensi mi verrebbe da dire ne abbiamo parlato anche in diretta venerdì basta che andate a controllare su Transfer Marks e la cronaca infortuni negli ultimi tre anni soprattutto ne ha avute di ogni è saltato più di un anno solare a livello di numero di giorni per infortunio quindi per il momento lo metto su freddo e non credo che ci muoveremo da lì ecco perché purtroppo non è un giocatore che dà grandi garanzie altro nome su rovente Andrea Pinamonti novità importante di queste ultime ore il Corriere dello Sport aggiunge al Monza e all'Atalanta anche il Sassuolo come pretendente per Pinamonti e attenzione perché il Sassuolo ha potenzialmente un qualcosa in più perché come sapete Scamacca sta per essere ceduto proprio al Paris Saint Germain e quindi l'Inter ovviamente così come questo stesso trattamento le veniva riservato in passato adesso è l'Inter che lo riserva agli altri stai vendendo Scamacca sta incamerando una valanga di milioni e io per Pinamonti meno di 20 non te ne posso richiedere quindi il prezzo è più o meno quello Pinamonti inizialmente era convinto di andare all'Atalanta poi il Monza si è rifatto sotto con un'offerta che fin dall'inizio è stata migliore per l'Inter rispetto a quella dell'Atalanta adesso che si stava quasi convincendo Pinamonti ne parlava a ricordo Pedullà è spuntato il Sassuolo comunque lo metto su rovente perché anche Pinamonti è una gestione che l'Inter tra virgolette non vede l'ora di fare perché deve liberare questo ragazzo che da noi non avrebbe spazio vediamo quale delle tre la spunterà ricordandovi, apro e chiudo parentesi, che da quello che filtrava da Appiano l'Inter vorrebbe mettere una clausola di recompra su Pinamonti e quindi non perderne il controllo anche questa è una cosa molto interessante sblocchiamo anche l'unica colonna rimasta libera ovvero quella caldo e ci andiamo a posizionare il nino maraviglia Alexis Sanchez qui ragazzi su Sanchez la situazione è più o meno simile da tempo ci sono tante offerte per lui lo hanno confermato anche i dirigenti post conferenza di martedì anche il nostro Lorenzo Polimanti che era lì presente sono arrivate tante proposte da Sanchez da campionati più o meno esotici il problema è che finora lui non si è convinto di accettare altri campionati che non siano la Serie A la Liga Spagnola o la Premier League lui è ancora convinto di poter essere un giocatore cardine di un progetto in uno di questi tre campionati e quindi non ha ancora deciso di scendere di categoria tra virgolette le ultime novità riportano un interesse anche del Flamengo su Sanchez Flamengo nel quale si è appena trasferito Arturo Vidale quindi ci farebbe molto comodo ci farebbe un grande favore il club brasiliano a prendere anche Sanchez però ripeto dipende molto da lui per il momento questi club li ha snobbati del tutto e vediamo cosa accadrà in ogni caso sapete poi che il nome di Sanchez è legato a quello di Dybala di cui parleremo fra poco a prescindere da Dybala l'Inter vorrebbe comunque liberarsi di Sanchez che se non erro attualmente risulta essere nei top tre calciatori più pagati a livello di ingaggio in Serie A e capite bene che per un giocatore che al momento nell'Inter sarebbe la quinta scelta è difficile sostenere un ingaggio di questo tipo quindi a prescindere penso che l'Inter di Sanchez voglia liberarsi anche perché c'è un Paolo Dybala che aspetta Dybala però per il momento lo posiziono su tiepido perché purtroppo questa questione relativa al fatto di dover sfoltire il reparto offensivo ci tormenta in qualche modo so che Dybala è uno dei calciatori che i tifosi stanno aspettando di più ed è anche comprensibile difficilmente arriverà prima come dicevamo di aver sfoltito il reparto offensivo e di essersi liberati di alcuni giocatori in queste ore Dybala sta tornando in Italia pensava, questo è quello che filtra di tornare in Italia dopo le vacanze avendo già un club a sua disposizione così purtroppo non sarà e quindi l'argentino dovrà ricominciare ad allenarsi per il momento da solo e poi vedere cosa accadrà sul mercato peraltro la Gazzetta dello Sport in queste ore parlava anche di un po' di preoccupazione che inizia a filtrare e che inizia a comparire nella mente di Dybala nei confronti di questa situazione che non si aspettava si è parlato di tanti club l'Inter, il Milan, la Roma, il Napoli alcune big europee per il momento nessuno vuole chiudere l'Inter è l'unica che ha fatto una proposta di buon livello a Dybala 5 milioni di ingaggio più bonus però per il momento non può permettersi di chiudere per questioni numeriche quindi lo mettiamo su tiepido perché Marotta continua a monitorarlo però è difficile attualmente sbilanciarsi rispetto al fatto che possa riscaldarsi o raffreddarsi il suo nome chiudiamo con la coppia che i due giocatori che viaggiano sempre in coppia e anche nella foto li ho inseriti appunto insieme che sono Edin Dzeko e il Tuku Joaquin Correa li metto su freddo per lo stesso motivo diciamo per coerenza con il discorso fra Sanchez e Dybala ovvero Dzeko e Correa sono attualmente lo step 3 del percorso che ti può portare ad arrivare a Dybala lo step 1 è cedere Pinamonti lo step 2 è liberarsi di Sanchez lo step 3 è liberarsi di 1 tra Correa e Dzeko capite benissimo anche voi che essendo il terzo step e i primi due non sembrano essere attualmente facilissimi soprattutto quello di Sanchez è difficile posizionarli in un'altra colonna che non sia freddo anche perché l'Inter e Simone Inzaghi ha grande rispetto dei due e per il momento non sembra intenzionata a spingerli verso la porta quindi se arriva qualche proposta la si valuta con grande serenità però attualmente l'Inter non sembra interessata a forzare la mano e quindi per il momento li posizioniamo su freddo peraltro nella foto hanno anche il giubbotto pesante quindi calza anche perfettamente e vedremo che cosa accadrà questi quindi ragazzi sono i dieci nomi più caldi del mercato interista ad oggi sono stati posizionati nelle varie fasce capite bene anche voi che il reparto su cui si interverrà con maggiore urgenza è la difesa fra Screener, Bremer, Milenkovic e tutti gli altri mentre per l'attacco si continua a lavorare ma si cercherà cioè lo si farà con maggiore calma da questo punto di vista fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quale calciatore aspettate di più sia in entrata che eventualmente in uscita vi ricordo anche di lasciare un mi piace al contenuto se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale vi ricordo poi il nostro club www.passioneinter.club se volete abbonarvi e sostenere il nostro progetto unendovi alla community di sostenitore di Passione Inter che ha interismo come parola chiara per il resto ti ricordo che qui a destra adesso comparirà un link se mi stai seguendo da YouTube con un format a cui abbiamo lavorato io e Lorenzo un giochino che abbiamo intitolato commenti invecchiati male non ti spoilerò nulla ti dico solo che il primo episodio è su Gabigol quindi clicca qui alla mia destra e fammi sapere che ne pensi ciao 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 ciao